ragazzi belli ben ritrovati in questo nuovo contenuto salve a tutti bentornati sul canale allora oggi abbiamo alcune cosine da dire ma prima di tutto permettetemi un autospam molto molto veloce perché ieri sul mio secondo canale è uscito un nuovo contenuto sapete ho un secondo canale che tratta argomenti completamente distanti dal calcio se volete vedere questo nuovo video trovate tutti i link qui sotto nella descrizione e pinnerò nel commento in alto proprio il commento che andrò ad effettuare con il secondo canale quindi se siete interessati a un contenuto al quale tengo molto per un traguardo raggiunto lo scorso weekend quindi fatevi un salto per andarvi a fare un po di cavoli miei anche extra calcio ieri sera italia turchia l'ho vista insieme ad alcuni amici l'abbiamo ascoltata dato un occhio di tanto in tanto mentre facciamo altre cose chiacchiere e robe del genere mi faceva comunque ridere perché tutte le volte che sentivamo rete chi sembrava che dicessero rete e diciamo chi 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 ha segnato che ha segnato però è finita 0 0 una partita forse anche un po deludente da questo punto di vista diciamo che gli 0 0 non sono mai dei risultati troppo positivi sono anche quelle partite che c'entrano poco o nulla ancora per il momento tra una decina di giorni inizieranno gli europei e sarà lì che l'italia avrà necessità di iniziare a conquistare punti anche perché ragazzi arriviamo agli europei da campioni in carica quindi dovremmo cercare di vendere cara la pelle mentre tornavo a casa infatti dalla serata con gli amici di notte intorno a luna di notte fabrice romano su instagram ha parlato di tiago motta ha postato questo bel faccione di tiago motta con degli aggiornamenti lato juve principalmente su tiago motta ha detto che la firma dovrebbe arrivare la prossima settimana ecco io sono di idea che quando sarà sarà questa firma non voglio star qui a impazzire a perderci del tempo è anche una sorta di rincorrere mediatico questo qua però avevamo letto già la settimana scorsa che doveva essere questa la settimana della firma di tiago motta questa settimana invece si dice che sarà la prossima quando sarà sarà perché tanto oggi la juventus ufficialmente senza un allenatore a maggior ragione dopo la risoluzione consensuale del contratto con allegri quindi oggi la juventus proprio non ha un allenatore dato che montero era soltanto per quelle due gare e molto probabilmente sarà tiago motta non sono preoccupato al fatto che possono esserci degli intoppi robe del genere oddio se non vieni tiago motta e conte è andato al napoli che andiamo a prendere tra l'altro ieri ho visto delle foto di conte insieme a manna quindi da quel punto di vista secondo me già nelle prossime ore avremo un annuncio di di antonio conte al napoli non ho paura ripeto per l'annuncio che possa saltare tiago motta però devo dirvi la verità tutto questo clamore la firma qui la firma la arriva qui arriva la e abbiamo già iniziato poi è la juve lo sappiamo che con la juve e vuole più soldi e ci sono dei problemi sembra quasi che un po la stiano gufando da quel punto di vista comunque non dovrebbero esserci problemi per tiago moto lo stesso fabrizio romano all'interno di quel post diceva tutto confermato anzi tiago motta ha già iniziato anche a parlare di mercato di mosse di mercato con la juve poi non dimentichiamoci che tiago moto ufficialmente fino al 30 di giugno ha un contratto con con il bologna no quindi può essere anche qualcosa di burocratico da quel punto di vista si deve liberare robe del genere però tiago motta secondo fabrizio romano ha già iniziato a parlare il mercato con la juve con alcuni giocatori alcune trattative che stanno già andando avanti spedite come quella per di gregorio 18 milioni più 2 di bonus e dato che di gregorio non è uno dei giocatori aggregati alla nazionale di spalletti secondo me potrebbe esserci a breve già l'annuncio del nuovo portiere della juventus quindi ex portiere del monza tra l'altro a monza hanno ufficializzato l'addio a palladino che si è accasato alla fiorentina non allenatore della fiorentina proprio italiano potrebbe diventare quello del bologna anche se sembra esserci una volontà da parte di italiano di prendersi un po di tempo prima di decidere però mi ha ricordato quell'ultima giornata di campionato quel juventus monza dove io ora allo stadio sono andato a vedere la partita di gregorio e palladino parlavano al centro del campo durante il scaldamento dei portieri e sembravano proprio dirsi addio no due protagonisti del monza che non sarebbero poi più stati al nella squadra in serie a l'anno successivo infatti palladino è già andato via e di gregorio dovrebbe arrivare a breve a torino poi abbiamo riccardo calafiori che ieri ha disputato la sua prima partita da calciatore della nazionale italiana tra l'altro a bologna nel suo stadio nel suo stadio di bologna quindi anche qui una bella cornice calafiori è uno di quei giocatori che tiagomotta vorrebbe portarsi via insieme a zirzè che è un po più complicato un po più molto complicato infatti il nome di zirzè si è tanto sgonfiato lato juve ma ricorderete che qualche mese fa avevamo parlato anche insieme a giovanni albanese proprio qui sul canale quando si facevano i primi nomi di di gregorio eccetera eccetera si diceva la juve ha un piano vorrebbe fare uno tra copmeiners oppure zirzè per dare qualità alle spalle di vlaovic ora rimanendo sul la mia opinione che per me chiesa andrà via e per me alla fine rabbio rimarrà e poi vediamo su bremer che cosa succede che cosa si muove ci sono anche altri giocatori che poi potrebbero arrivare alla juve non solo questi tre nominati da fabrizio romano ma appunto ieri abbiamo parlato anche di douglas luis un centrocampista che potrebbe arrivare dalla premier league in uno scambio con mccenni quindi sembra quasi che la juve bene o male abbia le idee chiare poi è ovvio che qualcuno perché ho già letto alcuni commenti mi dice in questo momento non vuol dire niente parlarne non ha senso io concordo perché in questo momento siamo ancora molto distanti siamo ancora molto lontani no da dall'inizio ufficiale calcio mercato dalla fine degli europei eccetera eccetera però ricordatevi questo è un consiglio che voglio darvi che quest'anno mai come quest'anno io dover fare una rivoluzione perché il primo anno in cui c'è giuntoli che mettevano sul mercato primo anno in cui giunto le fa un mercato estivo dirigendolo lui e si cambia pure allenatore la juventus dovrà fare secondo me sette otto nove operazioni in uscita e in entrata dato che bisogna anche allungare la rosa potrebbero essere 10 11 cioè significa dover far 20 colpi in questa estate quindi io sono d'accordo sì è il momento delle chiacchiere eccetera ma il mercato della juve programmato da mesi fatto che giovanni sia venuto qui un paio di mesi fa a dire di gregorio cala fiori uno tra con bene ser zir zee significa che quelli sono i macro argomenti della juve sono i macro interessamenti della juve quello in cui la juve deve andare subito quindi giuntoli non è che può aspettare tutto sto tempo perché sul fronte uscita deve muoversi in parallelo ma soprattutto sul fronte acquisti perché tu devi prendere quei giocatori se tu vendi e poi compri la gente sa che tu c'hai i soldi quindi prima blocchi e poi magari vendi quando è già tutto bloccato è già tutto deciso sono d'accordo è presto è prestissimo ma ma anche no è per questo che cove mainers diventa un obiettivo serio del quale dobbiamo parlare ma ne parlavamo da mesi e mesi che sappiamo che cove mainers è un obiettivo della juventus cioè non è un'invenzione non è una roba di oggi cove mainers è un giocatore che piace tanto la juve cove mainers è un giocatore che ha ufficializzato lo suo addio all'atalanta è da mesi che cove mainers dice sarà l'ultima stagione a bergamo l'altro giorno qualcuno mi diceva ma l'atalanta oggi non ha necessità di vendere secondo te può vendere l'atalanta non ha necessità di vendere sono d'accordo ha vinto l'europa league sta diventando una realtà sempre più bella eccetera eccetera ma l'atalanta non ha paura a cedere per scommettere su altri profili per poi ricedere di scommettere su altri profili lo stesso cove mainers quando arriva in italia arriva come buona promessa ma non come stella invece oggi lo è una stella della serie a un giocatore per cui l'atalanta chiede almeno 60 milioni di euro e anche qui sono d'accordo con chi mi dice ma secondo te la juve tira fuori 60 milioni no non li tira fuori la juve 60 milioni è per questo che si sta ragionando su delle contropartite tecniche con cove mainers per cercare di abbassare la disponibilità economica la richiesta economica fissa e inserire dei giocatori che piacciono e sono giocatori che vengano dalla next gen giocatori che abbiamo visto con la maglia della juve giocatori anche che sono andati in prestito a valorizzarsi in quest'annata perché perché se su le fa 10 11 gol col frosinone figuriamoci inseriti in un contesto come l'atalanta che per quei giocatori lì impastisce gasperini veramente diventa matto su lei l'atalanta farebbe non bene per me di più ma si parla anche di altre squadre interessamento del baer leverkusen quindi non soltanto in italia per su lei che è un giocatore che io sinceramente non cederei così tanto a cuor leggero è ovvio che se la valutazione di su lei è 45 milioni e lo inserisci nella trattativa per cove mainers e la juve ha individuato in cove mainers l'obiettivo numero uno per giunto il giocatore perfetto tiago motta cavolo non ci dorme la notte perché lo vuole allenare anche se io terrei su lei piuttosto che andare a prendere cove mainers è giusto che la juve lo faccia perché hanno più competenza di me perché hanno individuato in quel giocatore il giocatore chiave per il progetto e quindi se arrivi aggiungere una decina di milioni di euro oltre a su lei per cove mainers perché oggi un giocatore fatto finito è sicuramente su lei che verrà valorizzato poi 60 milioni carimi e 60 milioni tra due tre stagioni sotto gasperini chi sarà perché non so quanto ancora gasperini rimarrà l'atalanta però è logico che la juve lo vuol fare lo vorrebbe fare perché pronto oggi senza dover stare aspettare ne parlavamo qualche settimana fa il piano di giunto l'avere una squadra pronta subito competitiva già da subito e nel frattempo far crescere anche degli altri giocatori ma per avere la competitiva da subito devi fare dei sacrifici per quello vi dico boh siccome sia chiesa che sulle li vedremo partire separato anche di healing che è un profilo che piace all'atalanta era un profilo che piaceva anche l'anno scorso al bologna a bologna c'era tiago motta quindi chissà che healing non possa decidere di rimanere alla juventus e sotto tiago motta dato che ha un contratto in scadenza 25 ieri parlavano dei contratti in scadenza 25 che sono una tematica oggi sulla scrivania di giuntoli ma soprattutto su cobb meiners c'è un giocatore che nelle ultime ore è diventato prepotente nelle gerarchie dell'atalanta perché dico prepotente perché lo sappiamo si è fatto male scalvini si è rotto il crociato non andrà a fare gli europei e dovrà recuperare per l'atalanta un bel problema dal punto di vista economico perché poteva essere una risorsa ad accedere durante questo mercato estivo per cercare di fare sempre quel giochino in cui parlavamo prima o semplicemente perché lo voglia tenere quindi è un giocatore che manca effettivamente nell'organico ed è un giocatore forte un titolare con del potenziale eccetera eccetera quindi ecco che salta fuori il nome di huizen huizen che era già sul taccuino di tante squadre in europa si è parlato anche di borussia dormund per me sia sulle che healing che huizen sono tre giocatori tra profili perfetti per l'atalanta quindi non mi sorprendo nel leggere questi nomi accostati alla dea non mi sorprendo di leggere questi nomi come volontà di trattativa per scendere sul prezzo poi secondo me è difficile che l'atalanta ti dica vabbè te lo valuto 45 sulle non credo però la juve lì deve essere brava lì giunto deve essere bravo a scavare dire sì però ci rendiamo conto che cobbmeiners vuole andare via te l'ha già detto sulle non ha detto voglio andare via cioè bisogna giocare anche su queste cose qui è perché a bergamo sono bravissimi a trattare bravissimi allora noi dobbiamo giocare su queste cose qui dobbiamo spingere su queste robe qui sul giocatore che ha già detto che vuole andare via sul giocatore che molto probabilmente ha fatto capire di avere una preferenza anche lato juve su queste cose qui bisogna giocare bisogna spingere huizen è un altro di quelli che io non cederei ve l'ho già detto tante volte e vale il discorso che ho fatto prima per sulle se poi l'unico modo per arrivare a cobbmeiners che per giunto di tiago motta juventus eccetera eccetera è il giocatore portante della rosa del prossimo anno allora accetto anche di fare dei sacrifici accetto anche di fare sacrifici io non li farei però io non ho idea oggi di qual è il piano esatto di giunto li sappiamo il macro non sappiamo su ogni singolo calciatore non abbiamo la lista di ok questo esce di sicuro su questo abbiamo un problema eccetera eccetera anche il nome di douglas luis che è uscito nelle ultime ore scambio con mckenny non è una roba che nasce in due minuti vuol dire che è tanto tempo che stanno cercando di sondare da quando mckenny ha rifiutato il rinnovo hanno iniziato a guardarsi intorno quindi sono sincero non sono preoccupato per il mercato della juve per niente però sono davvero convinto che questa sia la quiete prima della tempesta perché oggi non sta ancora succedendo niente oggi non stiamo leggendo le ufficialità ma di notte di notte c'è giunto lì che lì che fa tutti i suoi conti tutte le sue tabelline sto esagerando ovviamente però per forza di cose in questo momento qui in cui ha necessità di programmare il mercato da juve con tante operazioni non sta fermo assolutamente no e sa già bene dove deve andare a parare ragazzi ieri non c'è stata la live la faremo oggi pomeriggio nel secondo nella seconda parte del pomeriggio scusate ho avuto qualche problema tecnico ieri di tempistiche fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti noi ci vediamo oggi per un po di domande risposte ciao